Buongiorno, mi chiamo William, ho 20 anni, sono nato in una città nel deserto, ho sperato la terza media, questo anno vorrò fare l'esperiore l'anno prossimo. Prima di iniziare devo ringraziare gli italiani per l'ospitalità. Nel mio paese c'è un grave conflitto, ci sono tanti terroristi, studiavo francese, inglese e tedesco, ho lasciato il livello di diploma d'etude generale all'università, studiavo nella città, quando sono tornato dal mio villaggio natale ho trovato che i terroristi hanno ucciso il mio padre e mamma mia mi ha detto di andare via, mi avrebbero ucciso come hanno ucciso mio padre, quindi sono scappato verso il nord, ho attraversato l'Algeria, sono andato in Libia, dunque in Libia non avevo certo, sono stato imprigionato, avevo deciso di morire sul mare piuttosto che tornare, abbiamo preso la barca e siamo sparati a Lampedusa, eravamo 135 persone sulla barca, a maggio 2017 sono venuto a Follegno, adesso sto meglio qui, ho tanti amici, ho trovato una squadra Virtus Follegno. Vi ringrazio anche il progetto Hackathon, grazie all'Hathon ho conosciuto tante persone, prima i professori andavano troppo veloci, ora ho capito, intervista con Chiara, Screscon e Francesco, ho conosciuto tante cose e mi piacerebbe di continuare perché è un bello progetto, attraverso questo progetto posso conoscere nel mondo, il mio sogno è diventare calciatore e mediatore, trovare un bel lavoro in Italia, grazie mille.